Anche Caltanissetta si mobilita con un sit-in in viale della regione dall'ingresso dello stadio Palmintelli lunedì prossimo 3 ottobre dalle 12 del mattino alle 13 si sarà al fianco delle donne iraniane per sostenere la loro protesta contro le repressioni del regime iraniano che priva le donne dei loro diritti, primo tra tutti quello della libertà, a promuovere l'iniziativa all'associazione Donne e Onde in Movimento. Noi nel nostro piccolo manifestiamo il nostro sostegno a queste donne perché è veramente importante fare sentire loro che non sono sole e che c'è un'intera comunità che si occupa di loro. Ovviamente la prima cosa che chiediamo è intanto il rispetto dei principi della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici da parte del regime iraniano e poi che si interrompa subito questa violenta repressione delle proteste, che venga garantito l'accesso a internet, venga ripristinato il flusso di informazioni che attualmente si è interrotto e che venga condotta un'inchiesta seria sulla morte non solo di Mascia ma anche di altri 76 se non ricordo male manifestanti. Dalle piazze iraniane a quelle del resto del mondo per onde donne in movimento è necessario richiedere una commissione di inchiesta seria sulle uccisioni e gli abusi perpetrati in Iran. Grazie a tutti.